Mister Di Meo, un obiettivo raggiunto, almeno quello della semifinale, due grandi gare nei 180 minuti, insomma, nulla da dire a questi ragazzi oggi? Solo ad alloggiarli dal punto di vista proprio dell'intensità di squadra, hanno fatto una bella partita, hanno lottato fino all'ultimo secondo, mi sono piaciuti. Solo un piccolo difetto, solo del gol, dovevamo accorciarlo solamente l'uomo, è l'unico difetto che ho trovato in questa squadra oggi, abbiamo combattuto. Merito a questi ragazzi che nei 180 minuti se la sono meritata. Ecco, magari dopo la partita di andata siamo riusciti a prendere meglio le misure, oggi, insomma, a parte qualche occasione, non siamo forse quasi mai stati in grossa difficoltà. Ma anche l'andata, l'andata loro hanno dato il 110%, la partita tosta, partita molto agonistica su un campo indecente, invece oggi il campo grande, noi siamo abituati su questo campo qua a giocare, quindi è stata una partita diversa. Sapevamo che loro quasi venivano a giocare la partita da viso aperto e noi l'abbiamo colpita al momento giusto. Potevamo chiudere un paio di volte e mi sono piaciuti i ragazzi, mi sono piaciuti veramente, sono stati bravi sotto tutti i punti di vista. Merito a questi ragazzi che stanno dando veramente tanto, quindi un elogio a loro per quello che stanno facendo e continuiamo così. Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare, non mollare manco un centimetro perché fin quando c'è stoio al timone è così. Bisogna darsi dentro e sotto tutti i punti di vista. Il fattore campo può essere importante anche questa domenica? Sì, assolutamente sì. Deve essere importantissimo, non importante. Il pubblico deve essere il nostro dodicesimo uomo e noi dobbiamo aiutare il pubblico ad andare a 200 all'ora. La squadra mi sta piacendo, mi sta piacendo e deve continuare così. Stiamo combattendo noi e l'Isernia, ce la stiamo dando di santa ragione fino alla fine, quindi sarà veramente un campionato, tutti quanti dicono che è un campionato non bello, però le cose belle sono così perché quando sono a mente 3-4 partite importantissime non puoi sbagliare. Un passo falso ti rovina tutto, quindi ecco perché c'è una concentrazione altissima, una concentrazione molto molto alta e stare sempre a mille. I ragazzi stanno a mille, dobbiamo cercare solamente di recuperare un po' di forze perché oggi abbiamo speso tantissimo e speriamo che non si sia fatto male a nessuno perché ho visto qualcuno che mi è uscito per infortunio tipo Fazio, tipo Traore che aveva qualche problemino, speriamo che non neanche niente di che, però chi sarà in campo darà il 110% e come dico sempre io, quando uno dà il cuore e ci mette passione nelle cose arriva sempre all'obiettivo. Francesco Potenza ha raggiunto questa semifinale, una partita molto agguerrita, è finita 1-1 però è passato il campo passo, nei 180 minuti siamo stati più bravi. Ma sì, sapevamo che era una partita difficile perché loro si giocavano tutto, quindi noi siamo contenti perché è un obiettivo che noi dall'inizio, diciamo da quando sopporto io, è un obiettivo che vogliamo mandare avanti e quindi godiamoci questa vittoria che è importante. Ecco, è stata una gara di grande intensità, sia l'andata anche il ritorno, non è stato proprio facile trovare gli spazi giusti anche nella difesa del Formia, tatticamente erano organizzati bene. Ma sì, ma già l'andata hanno fatto una partita di aggressività, messa bene in campo, quindi sapevamo che è una partita da stare attenti e sinceramente abbiamo fatto una grande partita sul piano tattico e sull'aggressività. Ecco, una settimana intensa, Francesco ci si gioca tutto in questa settimana, è giusto dire così? Ma ormai è da mesi che diciamo è la settimana decisiva, quindi noi dobbiamo arrivare e vincerle tutte per arrivare all'obiettivo, quindi domenica è una finale come era oggi, quindi dobbiamo stare sul pezzo. Fabiano Sabatino era un obiettivo della società Il Campopasso, è in semifinale con due belle prestazioni anche nei 180 minuti? Sì, indubbiamente abbiamo fornito due belle prestazioni, oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo messo molto in difficoltà il Formia secondo me e alla fine loro, penso alla prima occasione vera da gol che hanno costruito, hanno trovato questo pareggio e si sono rinvigoriti da questo, poi alla fine è normale che ci siamo abbassati un po', però l'importante era portare a casa i risultati. Ecco, all'andata soprattutto è l'oro numero 9, Puglia ci aveva messo in grandissima difficoltà, quest'oggi sia tu che Ioyo lo avete fronteggiato bene, avete avuto comunque un grande affare, ma insomma è un'ottima gara anche la vostra. Sì, sì, ma purtroppo non si conoscono tutti i giocatori di tutte le categorie, quindi alla fine trovandolo per la prima volta si può andare un po' in difficoltà, poi abbiamo trovato le giuste misure oggi perché comunque conoscevamo già un po' il tipo di giocatore che era, alla fine siamo andati bene. Ecco, domenica l'Alto Casertano, che partita ci aspetta? Una partita tosta, una partita che secondo me è molto simile a quella di oggi, loro comunque hanno dei giocatori molto simili alla squadra che abbiamo affrontato oggi, una partita dove ci sarà da sudare per portare a casa i risultati. Sì, 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 sì.